Il problema sono quelli sul treno, quelli sul treno vi pusheranno. Dobbiamo ruotare in senso orario. E' qua da me. C'è un HP da me, un HP da me. Morto, morto. Dobbiamo andare via. Per forza. Oh, 100, 100, 100. Palla viola ho fatto. Ah, ho sotto il con la Q, right? Qui dietro. Sali sopra, certo. Ho sciogato, sei? Morto? Stanno qua sotto, stanno qua sotto. Mi tiro nade, vabbè, speriamo, speriamo. C'è la mia nade. Anche la mia nade. 36, rosso. Rossissimo, ho preso, ho preso. Ho preso la kill, ho preso la kill. Ok. Bello a farti questo gioco, comunque. Abbiamo tutta lava, poi ruotiamo dove si fare. Ci sono tre team a Skyhook. Sì. Dai, vado qua io. Vado io. Ok. Pensiamo un po' di Bless NRG per... per ritrovare un po' di buon loot. tutte le chatte, non sta a mare. Anzi, facciamo così. Usciamo Mirage? Sappiamo già che vanno al... per toccare la cosa. Va bene, va bene. Va bene. Questa cassettina ci sono. Prendi pure paloncino, Marty. Ok. Passiamo da Trainyard. Che dici, Gerardo? Non mi succederà un team a Trainyard. Possiamo aspettare... Sì, alla volta. Quando quelli vanno alla volta, per forza. Trainyard dovrebbe essere prima. Vediamo. Mai detto Mach1, invece, che stai facendo prendere... Che poi è... Co... 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 Gigan. Phoenix, per voi. Manca un casco. Mi serve un casco. Sì, hanno lootato sotto. Sotto di nave. Quindi, penso, stanno andando verso la volta. Qui c'è un casco. Livello 1. No. Arrivano, arrivano i neri. Arrivano, arrivano, arrivano. Sì, sì. Calma, calma. Sta prendo, mi ha visto. Arriva, ragazzi. Sto subendo danni, amici. No. Mi ha casciato il gioco. Aspetta, un altro, no. Crackato, è stickato, stickato. Uno, uno muore. Uno muore. Muerto. Crackato anche l'altro. 32, 32. 161. Fucciate, fucciate. Crackati tutti. Crackati tutti. Fuori uno. Guarda quanti all? Qua dietro, qua dietro, qua dietro. Fatto male? È rosso. C'è il resto oro. In realtà non dovrei farlo io. Puoi verare qua. Chi ha la chiave? Scudi in corso. Mazza, ragazzi. È la prima volta che stava per crashare il gioco e non è... Pazzesco, c'è qualcosa. Karma. Ricarica scudi in corso. Ho la chiave di una camera benedì. Ho visto, ho visto. Infatti, eri in attimo... Sei in attimo rimasto sopra. Sì, sì. E rifrizzato in armi. Ho fatto ecco, ho fatto è crashato. Meno male, dai. Non so se niente. Bastante. Sto riparando i miei dati. Qua, sì. Ci sono armor per tutti. Ve la lascia a voi. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ma va, c'è il bigono, Skyhawk. Se me lo sappiamo... Sicilamente. Magari ci vado di... Vado di palloncino, vado in... Me la sento. Oblass. Vediamo un po' chi c'è. Vengo da te. Ma, sta pattinando. Pattinata è incredibile. Si sparano. Mi sa ove sta. Good. Che sta andando a mandare... All house. Ok, no. Questa non chiude là. Chiude più qua. Questa passi, forse? Sì, sì. Qua, qua. Un gibo qua. Ok. Sono qui. Mi ha visto. Faccio fin di sto solo. E me ne scappo. Non è l'unico che t'ha visto? Una è di oro. Possiamo andare a prendere già posizione, se vi piace. Sì. Ok. Andiamo, andiamo. Venite, venite. Questa dentro sul v-camp è caruccia. Mi piace come safe. Sì, anche a me. La Watson. Posso apierci una casa? Sì, sì, sì. Gucci. Abbiamo il senso perfetto, poi... Sì, vai, vai. Siamo la tua zippa. Qua. Line rilasciata. In casa ci dobbiamo prendere, Alma. Quella che voglio prendere io me la stanno rubando proprio adesso. No. Non penso. È uscito uno da là. Sì? Mi sa di sì. Rotto, rotto. Dai, io non ti la prendo. Ma non è che c'è gente? Ormai è nostra. Quella acqua... Già la nostra. Anche con la ultima. È il problema che non posso connetterle, peccato. È vero che non muoia. Meglio non farlo. Tutto passi, eh? Molto vicini. Molto, molto vicini. Sì, sì, è vero. Ricarico. Qua da me sono davanti alla porta? Uno da me. Braccato. 150. Ho fatto. È proprio il problema. Out the back, out the back. Eh, pochè. Ho sbagliato io. 150. Mi ha dato il resto, mi ha dato il resto io. Uno da l'altra, guarda. Ho stato, ho stato, ho stato. L'ho crankato, l'ho crankato malissimo. Uno l'ho crankato malissimo. Mi tiro uno scintino. E uno. E... Uno con te al. Un morto. Un morto. E l'ultimo è stato eliminato. Sono sciegato. Stavo petando tipo l'ora, stanno petando. Molti di bamba, di cipo. Ho ancora... Posso anche pensartelo. Se dobbiamo mettere TP da qua, guarda. Ah, faccio TP dal... Ok. Vado, eh. Ti aspetta tu là. Me lo fanno. Eh, aspetta anch'io. Ce l'ho depure, vedi. Io? Sto creando un tunnel. Venite. Vabbè, guarda pure te cosa c'è dentro. Amor viola. Stabilito telecano e la batteria. Niente di caldo. Ok. Stabilito telecano e la viola lo prendo da qua. Salve. Stai danno di brutto là. Sapete cosa? Dovremmo... Tu... Divendere te... Bravo Zerf, vai a prendere la viola. Sì, sì, sì. Qua c'è anche un'altra viola, quindi ne metto una qua. 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 Uso il rampino. Ah, tre squadre comunque... Cioè, tre squadre non sono molte. Siamo poche alla fine. Sì, possiamo anche uscire al limite. Andiamo arrivati. Possiamo anche tenere i ground hub, per me è uguale. Vediamo un po' come si chiude, magari. Ecco, magari le granate. Non l'ho. Non l'ho. Ruotano la casa davanti. Questa casa qua. Granite abbiamo, eh. Ok. C'ho due axe, arrivo. Ok, abbiamo preso quello della casa là. Pericolo, muoviti. Risparano, amici. Sto aprendo il fuoco sul nemico. Ricarica scudi in corso. Ricarico gli scudi. Ok, appena vediamo come si chiude, possiamo scegliere cosa fare. Sto ricaricando i miei scudi. Vediamo un po' dove chiude l'amico frizzo. Sì, abbiamo all'attato bene. Sì, abbiamo all'attato bene. La nostra destra. Possiamo già prendere quella ai ground. Andiamo, andiamo. Siamo messi benissimo. Sto creando una zip live. Qua, qua, uno. Lo vedo. Qua si craccate, o? Ragazzi, l'abbiamo anche dietro. Dove eravamo prima noi, a sud-est. Ok, ok. Sì, sì, uno lì dietro. Uno sicuro l'ho visto. È un solo, uno solo quello. Già che era pure una bright. Sì, sì, lo vedo, lo vedo. Ok. Il problema è questi davanti, che sono tre. Stai dentro la casa, quello. Tutto la servite va dietro. 12, viola. Uh, aspetta che se qua posso fare una robina, vediamo. Così. Lancia una granata. Granata termite lanciata. Lancia una granata. Un po' male, forza. Oh, ma è un portino. Ah, non lo so, due. Oh, ragazzi, lo ti due, due. Dopo siete adotto gli arc. Viste l'arca. Eh sì, mi sbucano davanti, prova a farmeli io. C'è un nemico qui. Butto una nai, dalle così magari li... Ah, fanno il tp, fanno il tp sotto i te, Zeref. Ok, ok. Sotto, sotto, sono sotto i me. Yes, yes. Ma io, ma io, fai li, fai li pedà, fai li pedà. Fai prendere questa qua. Qua dietro. Mi hanno sparato. Sto ricaricando i miei scuri. Nail per noi. Sì, sì, andiamo qui. Non si baitano, ormai. Uno è lì dietro, ragazzi, lo vedo col mirino. Mentre neve. 129. Raccancato, ragazzi. Morto, morto, morto mio. Un nemico abbattuto. Ricarica scudi in corso. Un? Rengarico. Crancato. Uno è washed, è washed alla Bangalore. Morto, la Bangalore. Ti devo curare. Certo, scelgo. Cambia armor, qua sopra. Certo, c'è stato. Morto. Cambia armor, subito. Mi hanno individuata. Mi hanno salvato, salvo. Sono gottelle. Ben, vai. GG. GG, GG, GG. Tutti su di noi, ovviamente. Sì, ovviamente sì, ovviamente sì. Sì, sì, assoluto. Bella, 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 bella. Siete i campioni Apex. Bella partitina. GG, ciao, GG. Abbiamo pure le... Belle armi, eravamo messi veramente bene. E avevamo soprattutto in ottima posizione. Isto è un po' buona. Già, ma 선배klia. la prima рука... Abbiamo visto... ... la prima ruota... molto pausa. Neussen coi? E3, da... E3, da un po' buona pu bargain. Grazie a tutti